Un tema attuale, ci sono alcune particolari tipologie di alberi rispetto ad altre che hanno delle radici superficiali e quindi con eventi atmosferici di questa portata sono più fragili di altri. Noi in questo momento abbiamo anche da poco incontrato nella giornata di oggi in maniera casuale ovviamente le associazioni, molte delle associazioni ambientaliste, le principali associazioni ambientaliste in città con loro stabiliremo anche un protocollo, un rinnovato protocollo d'intesa che ci vedrà anche monitorare insieme con loro lo stato di salute di alcune particolari tipologie di alberi e cercheremo di intervenire laddove ci sono situazioni di velocità e cercheremo di manutentare invece laddove ci sono situazioni possibili di recupero del patrimonio alborio.